Buonasera. 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 Come sta? Stavolta? La musica... Stavo gesto. L'esecuzione è splendida. Grazie. È una magnifica... È un piacere che lei sia con noi. È l'auspicio dell'anno scorso, si averla alberato. La ringrazio. Avremo ritorno a vedere la nostra. È un piacere che è a Milano di averla con noi, no? È un piacere. Ogni sera c'è questa bellissima tensione positiva quando lei appare. E lo stiamo vivendo ormai da anni, quindi il mio auspicio dell'anno scorso si è avverato, quindi l'abbiamo ripetuto quest'anno con grande gioia. È sempre l'ultima... Sì, sì, sì. Sai cosa? Questo capolavoro mancava da 79 in questa versione. È una versione proprio scritta da questo genio, morto 42 anni, no? È assolutamente non capito allora. È oggi una musica talmente straordinaria che... È di un fascino irresistibile. È di un fascino irresistibile. veramente. Adesso grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Un piacere. Grazie di queste ore. Grazie. Grazie a voi.